Siamo gli amici del Cespi con cui abbiamo collaborato in questi anni per dare corpo a un sistema che potesse davvero ravvicinare la teoria alle pratiche su questa materia. E poi anche il fatto di realizzare questa nuova esplorazione in Emilia-Romagna rende felice perché proprio in Emilia-Romagna, ancora prima della legge 47, abbiamo cominciato a lavorare sulla tutela, quindi credo che questa regione abbia davvero un ruolo molto importante rispetto anche al resto del territorio italiano. Sono contento appunto del fatto anche che ci sia una situazione che è già laboratorio, come diceva Rosangela Cossidente, mi sembra che tutti i partecipanti in questo caso sostanzino un pochino quella che è l'intenzione di questo lavoro, molto attivo, molto rapido, ma anche molto partecipato. Cioè si tratta sì di osservare delle situazioni, ma anche di coinvolgere nell'osservazione chi tutti i giorni lavora, spende le proprie energie, esprime le proprie competenze rispetto a questa tematica. Naturalmente vengono fuori da questo lavoro, ed è un po' anche questo il motivo per cui si è pensato a questo strumento, una serie di criticità, criticità a volte anche molto grosse e, ahimè, a volte criticità in crescita, diciamo, rispetto all'applicazione della legge. Prima mi chiedevo se iniziare dalle prerogative appunto di quest'azione che ci ha dato tante informazioni importanti o dalle criticità. Parto dalle criticità così almeno cerco di concludere il mio intervento in levare, che è sempre importante. Sicuramente, diciamo, il quadro normativo è già stato evocato in modo appropriato dalla Garante. Il fatto che stiamo discutendo nell'ambito e sotto leggi dell'autorità Garante per l'Emilia-Romagna è particolarmente importante. cercherò di sottolinearlo dopo perché la questione dei diritti, dei diritti dell'infanzia diventa una logica davvero predominante nell'elaborazione di questo strumento. Ma dicevo, il quadro normativo è già stato evocato, la 176, che ci porta decisamente indietro, ma anche a livello internazionale. In aprile è stato approvato, diciamo, questo patto europeo che certamente non va nella direzione auspicata dalla legge e che certamente avrà un impatto. In questo senso credo che sia ancora più importante rinforzare l'analisi per rinforzare la legge e le sue prerogative in vista dell'applicazione appunto di quanto prevede l'Europa in materia migratoria. Ci sono delle misure che potrebbero davvero avere un impatto grosso sulle persone minorenni dal punto di vista delle procedure, delle procedure, dell'accesso alle opportunità che ogni minorenne deve avere, rispetto alla detenzione. Il nuovo patto prevede che i minorenni possano essere tenuti in custodia anche quando arrivano con le loro famiglie. E quindi, diciamo, il quadro non solo a livello italiano è abbastanza preoccupante. Perché abbiamo iniziato questo tipo di lavoro e con Cespi abbiamo condiviso questo percorso realizzando uno strumento che fosse speculare e funzionale anche alla legge. Il titolo che abbiamo dato ai rapporti è legge 47, un sistema di analisi e azione. In qualche modo la prerogativa di questo lavoro è proprio quello di mettere insieme, diciamo, una teoria, una teoria importante, con la sua applicazione pratica. Perché ahimè, diciamo, da quello che abbiamo già rilevato e dalla situazione, vediamo che esiste una grande divergenza tra i principi e le norme evocate dalla legge 47 e la realtà dei fatti. Il secondo elemento critico è un'interpretazione discrezionale del fenomeno. Molto spesso, anche a volte con buona volontà, però ogni agenzia che è chiamata e ogni attore che è chiamato a intervenire su questo fenomeno complesso, diciamo che è legato al suo mandato, ma a volte questo mandato diventa, diciamo, monografico e non corrisponde alla complessità di quello che sarebbe necessario. C'è una frammentazione molto grossa, anche questo è già stato evocato, tra le funzioni, tra le istituzioni che devono collaborare e una disomogeneità grossa. Veniva evocata prima la questione della formazione, per esempio, dei tutori. C'è una disomogeneità rispetto a questa cosa, così come ci sono disomogeneità nei comportamenti delle istituzioni, dei tribunali per i minorenni che sono chiamati a nominare i tutori. Una disomogeneità nelle pratiche. In alcuni casi, diciamo abbastanza frequentemente, c'è un'assenza di qualificazione delle strutture, dei contesti che dovrebbero accogliere, dei luoghi quindi, degli strumenti, a volte anche delle persone. Molto spesso, in tante regioni, diciamo, diventa talmente difficile l'applicazione della legge che è difficile trovare persone, educatori che lavorino nelle comunità. Questo succede in molte regioni e molto spesso, appunto, quella che dovrebbe essere una comunità educativa diventa un punto, diciamo, di stasi in un processo che, come veniva ricordato da Sandra Zampa prima, per un ragazzo diventa lunghissimo. I tempi per un ragazzo sono davvero importanti, i documenti, l'attesa dei documenti, le burocrazie, diciamo, sono parte di questa giungla nella quale si trovano molti ragazzi. Naturalmente questo ha ricadute negative anche sulle comunità. Ricadute sulle comunità, diciamo, appunto, a parte gli episodi di violenza, cioè una non qualificata assistenza determina dei fenomeni che hanno ricadute negative sulle comunità, in generale comunità dove noi viviamo, nelle nostre città, aumentano lo stigma, aumentano lo stigma nei confronti ai minori strani accompagnati e rinforzano, diciamo, un'idea securitaria e stereotipata rispetto, invece, all'opportunità che potrebbe e che sappiamo può essere realizzata nel momento in cui l'accoglienza funziona. Naturalmente ho accennato a queste cose nella brevità, però mi sembra importante sottolineare anche queste criticità perché sono un pochino anche il motivo che ci ha spinto a realizzare questo strumento e a provare ad applicarlo, che possono anche determinare uno spazio di utilità per questo strumento. Alcuni aspetti fondamentali, poi sicuramente gli amici del CESPI entreranno più nello specifico spiegando un pochino il processo e la struttura, diciamo, di questa osservazione, però i principi che hanno un po' guidato il lavoro fino ad oggi erano e sono, io credo, tuttora molto validi. Il primo, direi, è un principio, lo chiamerei di individuazione, cioè il minorenne migrante non accompagnato è una persona e deve essere al centro della nostra analisi. Molto spesso, invece, il minorenne migrante viene considerato migrante prima ancora che minorenne. In qualche modo l'articolo 1 della legge 47 invece chiarisce che ogni minorenne, da qualsiasi posto provenga, deve essere trattato con pari opportunità. Semplicemente questo articolo ci aiuta a capire come qualificare quella parola che utilizzavo prima, la divergenza tra la teoria e la pratica. Noi sappiamo benissimo che oggi i minorenni migranti non sono trattati con pari opportunità rispetto ai minorenni italiani o europei. E questo è chiaro e viene fuori dal lavoro che abbiamo già svolto. Ecco, questo principio di individuazione, scusate se lo chiamo così mutuando una categoria diciamo psicologica, secondo me è molto importante perché è quel cambio di prospettiva, rappresenta il nodo di quel cambio di prospettiva a cui si faceva riferimento prima. Cioè guardare il fenomeno dal punto di vista della centralità della persona minorenne, che è prima minorenne e poi migrante in termini fenomenologici diciamo. Questo appunto a mio avviso trova riferimento nell'articolo 1 proprio della legge Zampa, della legge 47 e questo primo articolo raccorda questo strumento con una serie di altri principi importantissimi dal punto di vista del diritto e con tutta la legislazione internazionale. La legge è abbastanza pratica ma sottintende una serie e richiama una serie di principi che sono assolutamente importanti e che abbiamo tenuto presente nell'elaborazione dello strumento. Il diritto, la legge diventa il quadro di riferimento comune per affrontare la frammentazione che invece vediamo. Un quadro di riferimento non solo di carattere giuridico ma un quadro di riferimento che diventa multidisciplinare. L'idea appunto degli indicatori che poi vi verranno presentati sono anche l'idea che non sia possibile pensare a questa legge e alla sua applicazione senza considerarla un quadro multidisciplinare di riferimento che richiama mandati e principi ben precisi che fanno riferimento alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia ratificata per legge e tutto quanto. Quindi abbiamo cercato di realizzare uno strumento pratico ma nello stesso tempo che trovasse il suo respiro in principi che devono essere assicurati diciamo per ribadire quella centralità della persona minorenne nella nostra analisi e poi nella nostra azione. Quindi adesso non entro nel merito delle questioni di sopravvivenza, sviluppo, protezione, partecipazione, il superiore interesse del minore e la sua particolare storia diventano la base per quell'approccio che Sandra Zampa giustamente definiva olistico. Il terzo elemento che mi sembra importante richiamare è il fatto che abbiamo cercato di applicare un approccio di carattere sistemi. Non è possibile pensare al fenomeno senza mettere in connessione e in relazione i diversi mandati e le diverse prerogative che ha la legge. Invece quella solitudine che veniva evocata prima e quella mancanza di appropriatezza rispetto al minorenne spesso derivano dal fatto che le istituzioni e i diversi mandati non vengono messi in relazione. Quindi il sistema che vi verrà presentato cerca di non perdere la specificità di ogni aspetto del fenomeno ma nello stesso tempo anche di qualificarla attraverso la relazione tra i diversi punti di osservazione e i diversi mandati. In questo senso credo che anche la proposta stessa di osservazione costituisca un quadro di riferimento formativo, diciamo, collettivo, perché in qualche modo la proposta stessa dell'osservazione mette in relazione alcuni elementi che magari da parte di alcuni non sono mai stati considerati in modo appropriato. Quindi il carattere sistemico che indica come la qualità possibile dell'applicazione della legge derivi dalla relazione, non solo la relazione tra le persone, quindi il tutore e il ragazzo, l'operatore e il ragazzo, ma la relazione tra tutti gli attori del sistema. In questo senso, se volete leggere i lavori già svolti, vedrete come a volte un indicatore si mette in relazione con un altro. Non è possibile parlare di accesso alla scuola senza parlare di documenti, così come non è possibile parlare di protezione senza parlare di modalità di presa in carico. Ecco, questa logica è complessa, ma afferrabile ed è proprio quella che noi riteniamo dovrebbe essere utilizzata a livello micro e macro. E' un po' lo strumento e la modalità con cui abbiamo proposto questo monitoraggio lo propone. dal generale quindi al particolare. Esistono diversi livelli, micro, meso, macro, che devono essere considerati. Certamente ci sono delle riforme come quelle che venivano ricordate prima, che a livello macro, mi riferisco all'Europa, mi riferisco alla 176, determinano tantissimo, ma quindi dobbiamo sempre avere questa presente, questa relazione tra l'azione di prossimità con quel minorenne e i contesti più ampi, perché altrimenti rischiamo, come dire, di chiudere la nostra osservazione su uno specifico che è troppo limitato per poter capire e quindi accompagnare la persona minorenne in un percorso che sia quello anche indicato dalla nostra legislazione. L'idea, diciamo, di questo lavoro è quella di essere rapido, no? E quindi di essere immediatamente funzionale a chi determina politiche, iniziative e programmi, e però è anche quello di produrre un'opportunità culturale, no? Un'opportunità culturale. La nostra legislazione, in molti casi, mi riferisco anche alla legislazione, per esempio sulla giustizia, ha rappresentato anche internazionalmente un valore enorme di riferimento per tanti altri paesi e continua a farlo. In questo momento, diciamo, per esempio, dal punto di vista della formazione, l'Agenzia fondamentale per i diritti umani fondamentali dell'Unione Europea utilizza un manuale di formazione per tutti i 27 Stati membri che è stato concepito e realizzato in Italia. Quindi abbiamo sempre questo ruolo guida, però è come se ci dessimo la zappa sui piedi, no? In Italia, rispetto a certe cose. La proposta è che la legge rappresenti il quadro di riferimento teorico e applicativo, diciamo, per poter continuare virtuosamente ad affrontare questo fenomeno. La narrazione a volte, come sapete, è spropositata, è impropria, è spropositata. Sono molto interessato a capire la questione dei numeri anche dal Ministero, perché in realtà noi abbiamo visto dei numeri molto alti anche negli anni passati, eppure, diciamo, questo costringere il fenomeno sull'emergenza e la contingenza continua a permanere. Dopo 25 anni in cui stiamo lavorando su questo fenomeno, purtroppo ci troviamo di fronte a situazioni molto simili a quelle che c'erano tanti anni fa. solo un accenno a questo, anche Cespi sta collaborando con il Dipartimento del Ministero di Giustizia, anche noi stiamo realizzando un'analisi sulla come la poco qualificata applicazione della 47 sta determinando degli oneri grossissimi per il sistema di giustizia minorile. Ne abbiamo degli esempi di cronaca assolutamente recenti nelle rivolte del Beccaria, la maggior parte di ragazzi sono ragazzi stranieri. Quindi c'è proprio questa relazione grossa che esiste tra un'accoglienza mancata, e poi possiamo anche pensare che c'è una mutazione del fenomeno sicuramente, quindi anche questi aspetti naturalmente vanno considerati. La nostra analisi è che in realtà tanti fenomeni siano determinati proprio da una scarsa qualità dell'accoglienza, dove spesso le agenzie diciamo deputate non riescono a mettersi in connessione. Ecco io credo che questo lavoro in Emilia Romagna possa essere utile, abbiamo già analizzato la situazione a Bologna, mi sembra tre anni, due anni fa, tre anni fa, ci sono altre analisi regionali che abbiamo fatto, credo che sia davvero una cosa molto utile, rapida e che potrebbe davvero orientare molto, anche rispetto per esempio alla formazione dei tutori, perché questo lavoro secondo le nostre intenzioni può essere davvero utilizzato a diversi livelli ed è un'opportunità culturale davvero di vedere il fenomeno in un modo diverso e noi sappiamo bene che laddove c'è un'accoglienza di un certo tipo dove tutti gli elementi e tutte le garanzie che la legge prevede sono tenute in considerazione, la vita dei ragazzi cambia, cambia radicalmente. non è solo il tutore che deve essere, come giustamente veniva ricordato, appoggiato, assistito e non invece trovarsi in una lotta con l'istituzione, ma deve esserci proprio un'idea in cui cambia la vita dei ragazzi e cambia la nostra vita, cambia la nostra storia, individuale e collettiva. Abbiamo testimonianze bellissime da parte dei tutori, la transizione alla maggior età è un momento importante ma è anche un obiettivo per l'accoglienza dei minorenni e per quello che possono diventare come opportunità nelle nostre società. Io credo che questo è un po' lo spirito che ha guidato l'elaborazione di questo strumento e che debba dare, diciamo, rispire motivazione a noi che lavoriamo in questo ambito dove le notizie che arrivano sono depressive. Invece questo strumento invece vuole ridare colore a un fenomeno che in realtà ha colore e può davvero aiutarci a costruire delle realtà diverse per i ragazzi e per tutti noi. Quindi grazie ancora per questo intervento, grazie al Cespi e lascio la parola a chi magari in modo meno verboso del mio riesce a spiegare meglio lo strumento. Grazie. Grazie Pippo, la parola a Sebastiano Teschi e a René Carbone. Sì, buongiorno a tutti e a tutte le persone, organizzazioni, istituzioni presenti. Un ringraziamento in primi Sala Garante ai suoi collaboratori con cui abbiamo iniziato insomma una proficua scambio, collaborazione. È la prima volta insomma che il nostro rapid assessment territoriale incontra una sponda insomma con cui veramente riuscire anche un po' a pensare insieme o a organizzare questa ricognizione. e poi un ringraziamento a tutti i partecipanti anche in previsione insomma dei contatti che avremo con loro, alcuni di loro almeno, in quanto la nostra è una ricognizione territoriale come diceva anche Pippo, partecipata, collaborativa, che si nutre del contatto diretto insomma con i diversi attori pubblici e privati implicati nei processi di accoglienza del minore e quindi, come dire, è una prima occasione anche questa di conoscerci, presentarci, ma anche a scopi. Quindi in quest'ottica vorremmo essere molto sintetici insomma sia io, chiamo Sebastiano Ceschi e la mia collega Irene Carbone, che seguiremo insomma e cureremo direttamente questo lavoro di rapid assessment, che come avete sentito è un lavoro insomma che portiamo avanti da qualche anno, prima in una dimensione più cittadina poi invece più allargata diciamo a un perimetro più regionale e che interpreta insomma una precisa volontà almeno inizialmente di monitorare l'applicazione della legge, registrarne le difficoltà ma soprattutto gli avanzamenti. Una legge che però insomma è forse anche una metodologia di rapid assessment insomma elaborata qualche anno fa, che immaginava insomma una fase ancora espansiva, progressiva dei diritti dei minori e che si trova adesso insomma anche un po' sotto i contraccolpi invece di una fase fortemente regressiva in cui insomma dovremmo difendere con i denti quello che si è conquistato grazie alla legge. Quindi l'idea appunto è il rapid assessment, insomma la sua struttura portante è quella di una raccolta sistematica, organica, come diceva Pippo, insomma più possibilmente anche olistica, interrelata, dello stato dell'arte insomma della presa in carico, quindi attraverso informazioni puntuali, dati e apporti da parte di chi opera insomma insieme ai minori e con i minori fotografando dall'interno insomma questa situazione e insomma facendo una radiografia se volete dello stato dell'arte delle strutture, dei servizi, nei diversi ambiti di intervento in qualche modo ricalcati anche sulla sui articoli della legge almeno inizialmente e più in generale sulla presa in carico. A questo scopo insomma grazie anche all'apporto metodologico insomma rilevante di Defense for Children abbiamo proceduto seguendo un sistema di indicatori che qui è insomma rappresentato con questo mandala, slide 3, in cui insomma si capisce come è stata articolata la nostra ricerca, questo insomma sono due diverse versioni di indicatori che abbiamo utilizzato che poi hanno al loro interno tutta una serie di sotto indicatori che vanno riempiti sia di tipo quantitativo che qualitativo e che vi danno un'idea però insomma di come poi tutto faccia sistema e come insomma l'attenzione sia sui singoli aspetti ma anche sulle interrelazioni e sulle collaborazioni o mancate collaborazioni insomma all'interno di una mappa più ampia e in qualche modo collegata. Per farla molto breve potete vedere che insomma ci sono state alcune modifiche che abbiamo fatto tra la prima edizione e la seconda, insomma in particolare abbiamo diluito la questione della sostenibilità un po' nei diversi indicatori, le indagini familiari sono state in qualche modo messe all'interno della presa in carico, l'affido all'interno dell'accoglienza, abbiamo sdoppiato poi a un certo punto di istruzione e la formazione dalla salute che invece erano raccolti nello stesso articolo della legge e siamo poi arrivati nella versione successiva a otto macro indicatori che sono quelli che abbiamo utilizzato per l'ultimo rapid assessment nella regione Lombardia. Ecco al di là di queste geometrie variabili insomma che in qualche modo hanno anche vissuto di feedback che arrivavano dal territorio o di considerazioni insomma su come meglio organizzare la ricognizione e poi dare rappresentazione insomma ai risultati che raccoglievamo. Credo che il rapid assessment si sia rivelato questo sistema di indicatori interrelati uno strumento efficace nel cogliere insomma l'articolazione del sistema nella diagnosi delle sue difficoltà nel comprendere anche alcune diversità territoriali all'interno delle regioni in cui abbiamo operato insomma la ricerca e anche capire quali erano le pratiche più funzionali quelle più disfunzionali ma oltre a questo se volete aspetto più di raccolta insomma di elementi in raccolta chiaramente ragionata è stata anche un'occasione questa è la seconda componente insomma su cui insisto molto anche di accoglienza discussione e rappresentazione delle voci insomma di delle persone che abbiamo incontrato delle loro istanze critiche problematiche e le diverse riflessioni che sono emerse poi nei colloqui con gli operatori e con tutti gli addetti ai lavori e questo è un altro grande patrimonio insomma su cui abbiamo poi appreso molto non solo in termini appunto tecnici o organizzativi ma anche su aspetti più ampi della condizione di e della condizione insomma delle istituzioni della società italiana in lombardia questi elementi sono emersi con forza insomma i segnali delle difficoltà degli operatori a far fronte sì allo straordinario aumento delle presenze ma anche alle difficoltà organizzative e accoglienza che ha ridotto le proprie risorse anche forse la propria volontà di far bene e se la consideriamo come sistema complessivo insomma al di là delle particolarità locali e le preoccupazioni per il quadro legislativo che sono stato già ampiamente espressa dalla senatrice zanzari da pippo e anche a un clima politico no mediatico che rischia di sovrapporre o addirittura sostituire a una categoria di minore vista come soggetto vulnerabile bisognoso di assistenza a quella insomma no di deviante pericoloso cioè in cui la criminalizzazione insomma della migrazione rischia di colpire anche la figura dei minori che insomma sarebbe veramente molto grave ma anche le preoccupazioni degli operatori rispetto a uno stato di maggiore vulnerabilità dei minori insomma che arrivano adesso di maggiore sbandamento e di una maggiore diciamo ribellione rispetto ai percorsi di integrazione tradizionali o formali che divengono proposti i rischi quindi che insomma questi ragazzi prendano sporciatoie pericolose il rischio della devianza della dipendenza della violenza a cui si espongono ecco quindi il rapid assessment insomma per concludere è sia una radiografia di come il minore viene accolto o almeno cerca di esserlo meglio possibile quindi come viene anche trattato come attraversa sistema di raccoglienza ma anche una finestra più ampia per noi molto interessante fu la più generale condizione di vita del minore e di quello che la la società italiana è in grado riesce o non riesce a fare per renderlo pienamente un cittadino lascio adesso la parola mia collega irene che vi insomma renderà più più chiaro anche un po come stiamo pensiamo di organizzare il nostro lavoro in questi due mesi due mesi e mezzo insomma dovremmo tutti un po' correre ed essere appunto rapid grazie sebastiano e buongiorno a tutte e a tutti e innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che stanno partecipando a questo questo webinar e i relatori che si sono resi disponibili e colgo nuovamente l'occasione per ringraziare la dottoressa giudici e i suoi collaboratori per il prezioso supporto che ci hanno già da alcuni mesi fornito e anche per l'organizzazione di questo evento tra l'altro e sarò molto rapida perché il nostro interesse più che altro dare voce proprio si parlava di laboratorio dare voce al territorio e quindi i colleghi che mi hanno preceduto hanno ben illustrato quali sono appunto gli obiettivi del nostro studio e hanno descritto appunto quello che è lo strumento del rapid assessment e nel mio intervento intendo soffermarmi brevemente su alcune informazioni e indicazioni per così dire operative relative alla nostra ricerca. Un primo punto riguarda le tempistiche della ricerca nello specifico le attività di rilevazione e raccolta dati andranno avanti da settembre e dicembre di questo anno e i risultati dello studio verranno poi divulgati a febbraio marzo del prossimo anno nell'ambito di un report che verrà inserito all'interno del quinto rapporto del nostro osservatorio. Per quanto riguarda la raccolta dati, al finito appunto di questa raccolta dati innanzitutto condurremo come solitamente facciamo una desk research sul tema di indagine ovvero andremo ad analizzare i dati provenienti da fonti già esistenti, da fonti secondarie e inoltre verranno valorizzati alcuni precedenti contributi realizzati dall'osservatorio Misen appunto del CESPI tra cui vi ho già citato rapid assessment sulla città di Bologna che ormai è stato pubblicato nel 2020 ed era appunto parte del primo rapporto dell'osservatorio ma non solo anche altre ricerche hanno incrociato diciamo il territorio dell'Emilia-Romagna. Già veniva ricordata ma abbiamo intenzione di ribadirlo nuovamente appunto questo contributo estremamente rilevante per la nostra ricerca che verrà offerto dalla collaborazione con l'ufficio della garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza quindi grazie appunto diciamo a questa particolare sensibilità e disponibilità della garante e anche vorrei sottolineare a nome di tutto il team di ricerca anche di stancabile lavoro dei suoi collaboratori è stato già possibile avviare alcuni incontri informali di scambio sui temi appunto di questo nostro studio ma anche appunto proprio sessioni di coordinamento finalizzate alla definizione del processo di ricerca e alla realizzazione di alcune attività di ricerca tra cui appunto citavo l'organizzazione del presente evento ma anche dei focus group di cui vi parlerò nel dettaglio più a breve. Un altro elemento appunto molto utile per la raccolta dei dati saranno senz'altro appunto i questionari laddove ritenuto opportuno ad alcuni attori che interpelleremo infatti abbiamo intenzione di somministrare appunto dei questionari mirati alla rilevazione di specifici dati quantitativi e qualitativi e appunto alcuni questionari verranno ad esempio somministrati allo stesso ufficio della garante e anche ad esempio al tribunale per i minorenni di domania. Per quanto riguarda appunto la raccolta dati appena accennato per agevolarla appunto anche tenuto conto dei tempi ristretti della della ricerca si è scelto di organizzare una serie di focus group che avranno anche l'obiettivo di favorire un processo dialogico su alcuni temi chiave della ricerca tra i diversi partecipanti a tali incontri. Complessivamente intendiamo realizzare come vedete appunto la slide sette focus group che verranno svolti tutti tranne in un caso in modalità online al fine di dare spazio quanto più possibile diciamo alle diverse realtà territoriali regionali. Un primo focus group riguarda la presa in carico della prima accoglienza. I temi di discussioni verteranno in particolare su ad esempio colloquio di identificazione, primo colloquio con il servizio sociale, prassi d'ascolto, indagini familiari, iscrizioni amministrative sanitarie, accertamento dell'età, pronte a prima accoglienza e in questo contesto prevediamo di coinvolgere referenti di servizi sociali dei nuovi popoluoghi di provincia. Nell'ambito del focus group sulla seconda accoglienza verranno invece interpellati appunto su questo tema referenti dei centri d'accoglienza di secondo livello. Il terzo focus group riguarderà invece i temi della tutela volontaria, dell'affido familiare e dell'accoglienza in famiglia. Pertanto diciamo oltre alla garante regionale e ai referenti di servizi sociali e dell'affido prevediamo di coinvolgere nel dibattito anche le associazioni regionali e locali di tutori volontari ma anche di famiglie accoglienti. Un tema poi a noi molto a cuore a cui abbiamo potuto dedicare uno specifico focus è quello della salute mentale. Il mio collega Sebastiano Ceschi appunto accennava questa accentuata vulnerabilità riscontrata da più parti, molti stranieri soli di nuovo arrivo nel nostro paese e questa quindi anche alla luce dell'accentuata vulnerabilità mentale sottolineata appunto da diversi attori con cui ci siamo anche interfacciati negli scorsi mesi, negli scorsi anni. Riteniamo quanto mai indispensabile approfondire appunto lo stato di implementazione su questo territorio della presa in carico della salute mentale del MISNA insieme ovviamente a professionisti del settore appartenenti ad esempio alle ondà operativi di neuropsiciatria e psicologia dell'infanzia dell'adolescenza delle house e professionisti di strutture ospedaliere, centri specialistici, centri di etnopsichiatria e appunto come si diceva nell'attuale contesto di evidente criticità del sistema di accoglienza nazionale un altro focus group, il solo che intendiamo realizzare in presenza, un focus group a nostro parere di estremo interesse è quello incentrato su problematiche sociali, dipendenze, rischio devianza. Si tratta infatti di un tema di estrema urgenza che anche in questo caso possa vedere una partecipazione appunto numerosa di referenti di tm, tristure, prefetture, assistenti sociali dei servizi sociali comunali ma anche appunto degli uffici di servizio sociale per minori e quindi anche operatori della giustizia e anche altri attori della presa in carico, operatori del terzo settore. Un focus group sarà poi dedicato al tema della transizione della maggiore età, anche qui è stato sottolineato nei precedenti interventi quanto il passaggio alla maggiore età sia veramente una tappa delicata e spesso veramente critica per molti ragazzi e quindi nell'ambito di questa discussione vedremo i partecipanti a dialogare su argomenti quali ad esempio la ricerca a casa, l'accoglienza in famiglia, la ricerca lavoro e nonché l'inclusione socio-culturale e quindi a questo scopo intendiamo involgere nel dibattito servizi e operatori per l'integrazione tra cui mediatori interculturali, cittadini solidali tra cui ad esempio mentor e famiglie accoglienti e così come reti e attori del mercato immobiliare, anzi per l'inserimento lavorativo, centri interculturali e di aggregazione giovanile e in particolare rispetto alla partecipazione di realtà del terzo settore prevediamo di coinvolgere i forum provinciali del terzo settore per il volontariato. Infine un ulteriore focus sarà incentrato sul tema dell'istruzione della formazione e a questo scopo vedremo al confronto referenti di cpa, altre istituzioni scolastiche, uffici per l'integrazione scolastica comunale, anche enti di formazione, datori del lavoro e altri soggetti. Accanto ai focus group intendiamo anche realizzare alcune interviste semistrutturate di approfondimento sugli stessi temi appena menzionati, con alcuni attori relevanti che non avremo modo di interpellare nell'ambito di questi focus group. Qui vedete appunto una lista non esaustiva dei testimoni privilegiati che avremo intenzione di interpellare nel corso della nostra indagine sia per quanto riguarda appunto focus group ma anche, ripeto, in questa modalità di raccolta dati che è quella dell'intervista di approfondimento. Infine, come già riprendendo quanto detto da Sebastiano, invitando i partecipanti a questo webinar a contattarci senza problemi anche successivamente, qualora appunto qualcuno di voi volesse condividere informazioni e riflessioni su questi temi o effettuare particolari segnalazioni riguardo ai propri territori. Forse non l'abbiamo ribadito, ma il nostro intento non è quello appunto di esercitare un'azione di controllo o di ispezione e quindi non deve esserci quel timore di non condividere dati perché il nostro intento è quello anzi di valorizzare il buone prassi in atto che sappiamo che il territorio emiliano e romagnolo sono ben note e ovviamente al tempo stesso mettere alla luce le criticità e quindi far dialogare i decisori anche poi su questioni da risolvere e da migliorare. E quindi già questo webinar rappresenta per noi una prima importante tappa della nostra ricerca, un'occasione di confronto e di scambio molto prezioso. Quindi vorrei rubare un ulteriore tempo e lascio la parola agli altri relatori che mi seguiranno e siamo al vostro ascolto. Grazie a tutti per l'attenzione. Bene, grazie anche a Irene Carbone e a Sebastiano Ceschi. Come veniva detto c'è la possibilità di condattarli. La scambio è stata smattita.